il manicotto è quell'accessorio che tutti credono di saper utilizzare nella maniera corretta ma non sempre viene utilizzato nella maniera corretta non proprio tutti tutti perché ci sono quelli calorosi che non lo utilizzano mai ma come si mette il manicotto nel modo corretto tipo così no perché così alla rovescia ovvio si metterà allora così e uno dirà e invece perché quando tu pedali la scritta è alla rovescia e quindi non la devi leggere te come se fosse l'ora la deve leggere chi è dall'altra parte togli questo manicotto e metti il manicotto dalla parte corretta se il manicotto è giusto la scritta la vede chi è esterno e tu puoi pedalare tranquillamente in modo che tutti vedano la scritta del manicotto si è capito cioè non so se avete capito che io tipo raga non è difficile mettete il manicotto però scusa e dama fammi un favore puoi mettere di s di cioè non neanche l r perché dopo che uno non capisce left right destra sinistra che destra sinistra scrive lo grande invece che da sinistra delle cosi almeno almeno capiamo come se i manicotti però oh wow Ciao!